Tutto più o meno a tempo, vogliamo fare una figura litrica un po' meno fincopata, un po' più sete, perché questo ha un po' di contro tempi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 piano piano si è portata a fare la più lenta, quando la fai molto forte si è portata un po' a accelerare, ed è una cosa che si potrebbe farsi un pochino di attenzione, però poi suonando, però naturalmente quando si suona molto forte viene anche un pochino da suonare più veloce, e inoltre se suoni piano si viene da fare un po' più lento, cerchiamo invece di lavorare sostanto su un discorso proprio di dinamica, di intensità del basso, e vogliamo lavorare iniziare piano piano, quando voi sentite, e non da come tutto il bello piano di volume, o che siamo più potenti, che siamo ben definiti, a vostra descrizione, a vostra sensibilità, chiaramente un po' cioccando, un po' guardando lì, iniziate a mettere questo colpo d'accordo, a me però pensate che l'effetto si viene fuori, che quando voi entrate in entrate, capito, iniziamo noi con questo sottoponizzo, insomma, andrò così, e poi riconosceremo, proprio belli potenti, proviamo eh, io sto andando tutto per provare, noi iniziamo piano piano, se lo sentiamo, sapete, una frase, una frase, una frase, una frase, una frase che potete che potete, ok,qu Grazie a tutti. Applausi. 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 Spero che sono sempre tutti i cloni nella testa, cioè, gruppo, però nella testa più o meno in tempo sempre chiaro, in modo che se a loro vi faccio stare senti, poi questo qui, che non mai metto, così, con la tuta letta. Ehm, buono. Ehm, vabbè, in primo andiamo, voglio, ancora, lasciate un po' gioco, se potete fare i cambi, cose, se no, continuiamo così, eh. Ehm, però un po' forte, quelle cose. Seria? Un attimino, voglio, 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 voglio. Ok, un po' come, c'è, c'è la posta. In senso ci, iniziamo, in questa parte, meglio. Ok, un po' come. 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 Ok. Ok, un po' come. Ok, un po' come. Ok, un po' come. Ok. Ok. di vedere quello che una persona cioè fatemi vedere quello che ho pisato o quello che ho già un rapporto un po' stabile con questa teglia questo è un rapporto finiamo non è che ogni volta che so io sono solo così oppure non sono solo così però non è che tu usi sempre questa cosa qua mi posso chiedere due o tre minuti di una persona, dei soli e se la senti mi fanno solo là in mezzo dovevi andare aspetta che già era partito lui se no non capisco niente anche là posso poi dopo un'altra minuta te ne ricordi questa cosa sì io ho fatto io ho fatto un tempo però c'è un tempo abbastanza definito semplice e anche secondo me abbastanza seguibile facile insomma un po' sporare insieme quindi se ti ho chiesto se te lo aggiungi magari dopo tu mi vuoi far sentire qualcosa tu? non hai augurato no sono pure io che non mi so far spiegare ok ok non hai augurato non hai augurato non hai augurato non hai augurato ok proviamo a prendere questo tempo tutti quanti magari come avete lavorato uno con un po' di delle differenze con un po' di con un po' di con un po' di schienale chi è schienale? qui non c'è nessuno schienale posso sentire più o meno questo flug che facevamo solo per schienali datevi 4 e effetti mi chiederebbe ricordate dopo lo schienale la parte in sedere ci sono altre parti della serie suonata gambe mi fa sentire la gamba com'è? ci sono altre gambe? ho bisogno di fare un attimo gamba e poi di nuovo schienale per sentire la differenza due partite di gamba proprio schienale potente allora gamba è quello che ha la schienale più bassa di tutti cioè quello che si sente di meno qua quindi diciamo che sono meno potente allora come ho detto gamba schienale che è il meglio e il culo insieme ragazzi 1 2 3 4 sapete tutti che strumento suonate se faccio 3 siamo tutti insieme massicci coppati schienali in sedere se faccio pugno voglio soltanto quello che la gamba quello che suonava e se faccio 2 soltanto gamba e schienale che senza spugarsi giusto e allora vai siete pronti il step è chiaro vai solo con mi sono dimenticato di scelega che mi sono ritenendo lo dico lo dico a voce partiamo solo con lo schienale no solo con i gatti che sono personalmente 1 2 3 4 una volta lo schienale vi sentite ragazzi se sentite bene gli altri gli altri gli altri gli altri gli altri gli altri bocchis mi sono ritenciato Grazie.